Con Gloriana Gambini, stagione della cultura del comune di Pesaro, Cinema sotto la luna anche quest'estate dopo il Festival del Cinema, il cinema in piazza Gidefao. Sì, è un appuntamento ormai, sappiamo, molto gravito ai pesaresi, anzi è un modo anche di tornare all'infanzia, o un modo antico di andare al cinema all'aperto appunto, durante l'estate, rivedere pellicole che si sono amate o anche che si sono perse durante la stagione. È un modo anche di ritrovarsi insieme in uno spazio della città che grazie a Pesaro Parcheggi, riqualificato, una piazza comunque importante, una cerniera tra centro e mare, che si ritrova in silenzio, in un contesto quindi ideale per assaporare appunto pellicole di elevata qualità. Quindi la scelta appunto delle pellicole e dei film che si propongono insieme è di assoluto rispetto, quindi in grado di accontentare tutti i gusti, famiglie e nonne e quindi è un modo diverso anche più ricco di quest'anno di vivere l'estate.